salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale la recensione di un prodotto che sicuramente tanti di voi apprezzeranno perché in questa stagione tante persone montano nel proprio giardino delle piscine fuori terra io ho un esempio della mia ma vale un po per tutte le piscine fuori terra piccole grandi medie è uno dei problemi ovviamente più grossi per chi ha ed utilizza questo tipo di piscine è pulire il fondo della piscina ed è per questo che ho deciso di portare sul canale la recensione di questo prodotto l'intex zr 200 una scopa per pulire il fondo delle piscine a batterie ricaricabile ovviamente che ci permette di tenere il fondo delle nostre piscine pulito ovviamente sono la piscina interrata mette il robottino che fa tutto da solo ma per chi ha come me piscine di questo tipo e poi la stramaggioranza delle persone questa scopa pulisci foto della intex è veramente tanta tanta roba questo modello costa tra i 90 e 100 euro è disponibile su amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata se lo volete acquistare perché è un prodotto che merita tantissimo secondo me è indispensabile se vogliamo avere la piscina pulita avere un accessorio di questo tipo ma prima di vedere le sue caratteristiche di vederlo in funzione direi di fare un veloce unboxing per vedere cosa c'è all'interno della confezione andiamo all'interno del primo pacco troviamo di non tagliare col taglierino ma io lo taglio lo stesso sto leggero abbiamo il manico telescopico che può arrivare fino a 2 metri e 80 di lunghezza dopodiché abbiamo i manuali di istruzioni con certificati di garanzia e di sicurezza poi troviamo quello che è il cuore appunto di questo prodotto dove abbiamo il motore e ovviamente la parte aspirante e dove abbiamo qua dietro gli indicatori che ci vanno a dare quanta carica abbiamo ancora all'interno della batteria mentre qua dietro tolto questo tappo abbiamo la presa di ricarica appunto per ricaricare le batterie delle caratteristiche parliamo tra poco comunque vedete che è un prodotto è bello importante dal punto di vista delle dimensioni secondo me è questo che lo rende anche un prodotto molto valido perché si capisce anche da qua la potenza aspirante che può avere un prodotto non professionale ma comunque veramente performante per l'uso che ne dobbiamo fare noi possessori di piscine fuori terra poi abbiamo un'altra confezione dove all'interno troviamo tutti gli accessori per poter utilizzare al meglio la nostra scopa abbiamo innanzitutto un sacchetto con una spazzola dotata di ruotine e ovviamente queste spazzolette tipo spazzolino da denti per andare a smuovere quello che è tutto quello che c'è sul fondo della nostra piscina abbiamo l'alimentatore che è ovviamente tramite questa presa andrà a ricaricare le batterie e qua abbiamo un altro sacchettino dove all'interno troviamo un filtro quasi a calza sembra quasi una calza elasticizzata perché questo lo possiamo utilizzare se vogliamo filtrare roba molto molto sottile e poi abbiamo un'altra spazzola con diciamo una conformazione diversa per altri utilizzi per se vogliamo andare anche aspirare le pareti o comunque andare ad aspirare altre zone della piscina e poi come abbiamo visto all'inizio abbiamo il manico telescopico che è veramente figo perché arriva a essere lungo fino a due metri e ottante e questo è veramente figo perché ci dà la possibilità di utilizzarlo con qualsiasi tipo di piscina andando a premere il pulsante qua davanti andiamo a rimuovere la parte frontale e qua dietro abbiamo come vedete una paletta in gomma che serve per non fare ricadere fuori lo sporco all'interno della piscina poi qua abbiamo la parte filtrante come vedete il filtro ha fori molto molto sottili ma possiamo poi andarci a mettere anche questo filtro diciamo aggiuntivo se dobbiamo filtrare roba ancora più sottile però ovviamente la maggior resa a livello di prestazioni per quanto riguarda la potenza di aspirazione l'abbiamo con questo filtro però con lui aspiriamo e tratteniamo quello che magari questo non riesce quindi in base alle necessità si può utilizzare sia uno che l'altro qua dietro abbiamo questa ghiera vite per stringere il tubo che andremo a inserire qua dietro e poi come vedete abbiamo questo foro che andrà ad agganciarsi in questo perno quindi abbiamo una sorta di sgancio rapido una volta che abbiamo allentato questa ghiera come abbiamo detto è dotato ovviamente di batteria quindi non serve la corrente per farlo andare mentre lo si utilizza ma solo per ricaricarlo ovviamente tutto impermeabile perché lui si deve immergere totalmente nell'acqua la durata della batteria viene data addirittura per 100 minuti quando è totalmente carica anche se secondo me comunque la durata non è di 100 minuti reali è meno però comunque ci permette di aspirare tranquillamente tutto il fondo della piscina anche perché una volta che l'abbiamo aspirato lo rimettiamo a caricare e siamo a posto quindi 100 minuti anche se non sono reali l'importante ci permette di pulire in maniera approfondita il fondo della piscina allora una volta detto tutto questo direi che però è arrivato il momento di provarlo quindi adesso lo vado a rimontare e lo testiamo all'interno della mia piscina per farvi vedere realmente quanta potenza di aspirazione ha e se fa al caso vostro perché comunque ricordiamoci sempre che è un accessorio per piscine fuoriterra un accessorio non costosissimo un accessorio chiamiamolo così non professionale che però sicuramente ci agevola di molto è la pulizia della nostra piscina perché comunque il fondo è veramente una parte molto complicata da pulire quindi adesso vado a rimontare il tutto e poi lo testiamo perfetto ci siamo ho montato la spazzola quella a punta con la forma ad angolo perlomeno per la parte frontale ho lasciato il filtro quello nero quello un po' più poroso e adesso non ci resta che testarlo quindi all'interno della mia piscina il fondo non è infatti pulitissimo negli angoli soprattutto perché come sapete la parte in cui si sporca di più sono sempre gli angoli adesso vi farò vedere come questo accessorio è in grado di aiutarvi a tenerla pulita quindi andiamo siamo pronti per la prova lui una volta acceso entra in funzione solo quando viene immerso nell'acqua se fuori dall'acqua non aspira anche se è acceso ma una volta che lo andiamo ad immergere lui parte in automatico quindi adesso ragazzi preparatevi perché è davvero davvero tanta roba quindi 3 2 1 via perfetto lui adesso è partito e possiamo aspirare gli angoli ovviamente sono la parte sempre peggiore di tutto perché dove veramente si ferma il mondo per quanto riguarda lo sporco e con lui è uno spettacolo poi quando è nell'acqua non si sente nemmeno il peso perché ovviamente è appoggiato in terra quindi il peso è zero ma il risultato è pazzesco una piscina come questa che circa 4 metri e 20 per due metri alta un metro e venti è una passeggiata in un attimo abbiamo pulito il fondo c'è cose che normalmente di impegnano un sacco di tempo e poi il risultato comunque non è mai ottimale per quanto riguarda pulire i fondi della piscina cioè guardate che roba uno spettacolo poi col manico telescopico ci adattiamo a qualsiasi tipo di utilizzo per quanto riguarda la distanza e fatto di non entrare comunque nella piscina mentre lui sta pulendo è davvero fantastico poi una volta che abbiamo finito e lo tiriamo fuori dall'acqua in automatico va a spegnersi infatti vedete che in questo momento lui non sta aspirando ma come lo andiamo a rimmergere lui dopo un paio di secondi inizia ad aspirare ovviamente quando lo tirate fuori dall'acqua il fatto che sia ancora piena d'acqua perché deve uscire l'acqua che c'è ferma qua l'acqua che c'è ferma qua dove abbiamo il motore lo rende sicuramente pesante però basta prenderlo qua dal manico dalla sua impugnatura e il peso ovviamente non si sente più se invece lo teniamo solo dal manico telescopico il peso ovviamente si sente poi già quando si vuota dall'acqua il peso cambia totalmente perché comunque tanta la quantità d'acqua che rimane dentro appena lo togliamo dalla piscina ma quando è nell'acqua ovviamente il peso è zero perché comunque uno è appoggiato e l'acqua poi ci aiuta a diciamo sollevarlo e a non farci sentire il peso e poi una volta che abbiamo finito di aspirare il fondo della nostra piscina basta andare a rimuovere la parte frontale e andare a lavare tutto sotto il rubinetto dell'acqua senza nessunissimo problema e abbiamo ancora la nostra scopa della intex pronta per il nostro prossimo utilizzo quindi ragazzi l'avete visto in azione secondo me questo aspira piscine della intex è fantastico un prodotto che io vi straconsiglio soprattutto se avete una piscina fuori terra perché è la morte sua a potenza di aspirazione abbiamo doppio tipo di filtraggio per particelle piccole o con particelle più grosse abbiamo un manico telescopico che arriva fino a due metri e ottanta abbiamo un'autonomia della batteria che ci permette di aspirare tranquillamente il fondo della piscina va facendosi avanzare anche tanti minuti quindi senza nessun problema possiamo comunque tanto ricaricare una volta che l'abbiamo tolto e abbiamo poi due spazzole come abbiamo visto questa che io preferisco per il fondo l'altra che serve come abbiamo visto nell'unboxing per fare magari le pareti diventa un po' più utile rispetto a questa comunque poi uno con quella che si trova meglio in base alle proprie necessità utilizza quello che preferisce e poi come abbiamo detto lui è disponibile su amazon quindi è il migliore store al mondo per acquistare prodotti vi lascio qua sotto il link in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata lo vogliate acquistare perché veramente è un prodotto fantastico questo modello della intex quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova riguardante lui l'aspira fondo piscina zr 200 della intex l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler anche di questo prodotto erano arrivate degli spoiler sempre si va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale anche prodotti tecnologici come questi che ci cambiano la vita che ce la migliorano e ce la semplificano ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test come questo o una novità ciao al prossimo video